Buongiorno a tutti voi che mi state guardando. Oggi voliamo negli Stati Uniti e in particolare a Chestnut Ridge. Qui c'è una cascata che nasconde una fiamma praticamente inestinguibile. Ma come si spiega questo fenomeno? Le cascate sono una delle meraviglie della natura che più affascinano l'uomo. Mostrano la forza dirompente di madre natura, creano spettacoli indicibili e affascinanti, ma soprattutto scenari mozzafiato. Anche se ci hanno insegnato che l'acqua spegne il fuoco, negli Stati Uniti arde sotto una cascata una fiamma che è praticamente inestinguibile. Oserei dire misteriosamente inestinguibile. L'Eternal Flame, come è stata battezzata, brilla tra le acque delle cascate di Chestnut Ridge, County Park, che è una riserva naturale a sud di Buffalo. Oltre ad essere uno spettacolo emozionante, è uno dei fenomeni più misteriosi in natura. Secondo uno studio dell'Indiana University, lo strano fenomeno è dovuto al fatto che probabilmente la fiamma, alta più o meno 30 cm, è posizionata al di sopra di una sacca di metano che si trova a una profondità di 400 metri e che risale spinto dalle altissime temperature che riescono anche a polverizzare le rocce, invece di uscire, come di solito accade, direttamente dal terreno. Alcuni esperti, tra cui il dottor Schimmelmann, affermano però che ciò non sia possibile. Perché le rocce presenti al di sotto delle cascate a Chestnut Ridge, meno vecchie di quanto si pensasse, non solo non sono in grado di produrre questo gas, ma hanno una temperatura che si può tranquillamente paragonare ad una calda tazza di tè. Esiste quindi un altro processo che sta mantenendo eterna la fiamma e che nessuno ancora sa spiegare. Sono però molte le leggende nate attorno a questo curioso fenomeno. La più celebre racconta che la fiamma rappresenta uno spirito indiano. Il territorio del Chestnut era infatti anticamente popolato da tribù, che con il tempo furono eliminate da invasori europei. L'ultimo individuo rimasto l'accese prima di morire, proprio a testimonianza della loro presenza. Ciò che è certo è che la fiammella porta con sé un'aura di magia. Una magia che è capace di affascinare turisti provenienti da tutto il mondo e che arrivano qui proprio spinti dalla curiosità. Del resto, quella nascosta nella riserva poco distante da Buffalo è l'unica fiamma ad essere accolta tra i getti di una cascata, in qualsiasi momento dell'anno, anche in inverno, quando questa si ghiaccia. In quell'unione d'eterno e indissolubile fascino tra acqua e fuoco. Due elementi totalmente opposti, ma capaci qui di incontrarsi. Voi siete state in questo posto? Vi ha incuriosito? Io direi che oltre che misteriosamente affascinante, sarebbe anche incredibilmente romantico trovarsi dinnanzi a questo spettacolo della natura. Noi siamo alla ricerca di luoghi come questi. E voi sapreste consigliarcene qualcuno? Potete come sempre commentare il video qui sotto e se vi va lasciare un like. Continuate a seguirmi sulla nostra pagina YouTube di LTVaggi e se avete curiosità o anche consigli per i prossimi video potete tranquillamente scriverci sulla nostra pagina Facebook di LTVaggi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un basone dalla vostra Mariacca.